dice e come fai a goderti fottonati trevi sei un romano abiti a roma e la trovi sempre intasata dei turisti sempre piena di gente pure sotto covid e te lo dico io come si fa si vieni te lo dico io frate c'è devi andare a 6 di mattina come faceva il poro d'artagnana ve lo ricordate d'artagnana che grattava tutte le monede che i turisti buttavano sul fondo della fontana eccoci qua piazza dei crociferi qui c'è la fantastica chiesa di santa maria in trevi ovviamente è chiusa sono da pochi minuti passate le 6 chiesa che tra l'altro ospita le spoglie del grande santo gaspare del bufalo ed eccoci qua sono le sei e dieci e la fontana si para davanti a noi in tutta la sua bellezza devo dire che girare per roma a quest'ora riserva indubbiamente dei grandi vantaggi eccoci qua io vi saluto e buona giornata a tutti